Ad un anno di distanza dall'annuncio ufficiale, Paolo Bononis torna a parlare del divorzio da Sonia Bruganelli. Meglio dirsi addio che vivere nelle bugie, ha detto in un'intervista. Il divorzio è figlio di cambiamenti interiori delle persone che vanno rispettati. Lasciarsi nel rispetto reciproco e soprattutto dei figli è stato l'imperativo per questa coppia che ha condiviso 25 anni di matrimonio. Una separazione subita, dice il conduttore, ma necessaria, non facile, ma giusto così. Sembra fargli eco Sonia che ribadisce in un'intervista andarsene non vuol dire abbandonare. Significa anche lasciare l'altro libero di essere felice senza di te. Non esattamente così per altre coppie a casa nostra e nel mondo dello showbiz internazionale. E di queste ore la notizia della lite furibunda in un ristorante romano tra Paolo Verzi e Micaela Ramazzotti. 16 anni di matrimonio e due figli all'attivo. Gli ex, tra urla e spinte, sono arrivati a tirarsi i piatti, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri. Le più celebri tra le rotture recenti sono state tutte burrascose, condite da racconti intimi su dolori e tradimenti, da offese reciproche e ripicche. Come non pensare all'intervista fiume di Belen, che ha contato decine di amanti del marito De Martino, e alle dichiarazioni del libro Che stupida di Hilary Blasi, in causa contro Totti per il divorzio con addebito. E poi la più recente e rumorosa, quella tra Fedez e la Ferragni, su cui lui ha scritto una hit dal Sapore Amaro. Eppure lasciarsi in pace si può. Lo dimostrano tante coppie che scelgono la via dell'accordo, dell'amore in un'altra forma. Bruce Willis, colpito da una malattia degenerativa e amorevolmente curato anche dalla ex Demi Moore, che è rimasta accanto a lui e alla nuova moglie, Emma Hemming, in una grande famiglia allargata. Noi abbiamo la fortuna di aver mantenuto l'affetto e la complicità, dice Claudia Gelini, parlando del compagno Federico Zampaglione. Inutile accanirsi e revitalizzare un sentimento che non esiste più, secondo Ambra Angiolini, che con Francesco Renga condivide un passato e un presente felice, che non ha difficoltà a chiamare comunque amore. Rosanna. Rosanna, non ti presento, ma ti ho detto da te. Sarà il capito. Nunzia, sei fantastico. Sarà il capito. Ma c'è con lui Rosanna Bammeltucci, lo sai? Ciao Rosanna, ben trovata. Grazie a Stefania Orlando. Ciao Stefania. Ciao Stefania. Ben trovata. Pino Strabbioni. Gianluca. Ciao. Grazie Pino e Gigi Marzullo. Ben trovato. Perché io parlo troppo durante i poemi e non mi rendo conto quando riparto che sto a chiacchierare con loro due. Io Gianlu me l'ho portata avanti alla canzone e a tutto. Ma infatti Gianlu stavi già preparando. Eh sì, perché volevo sapere da te come mai ci sono coppie che praticamente si lasciano in maniera diciamo plateale, litigando, mettendo in mezzo figlie e coppie come nel caso di Bonolis e della moglie che invece riescono ad andare comunque d'accordo, a rispettarsi, perché l'amore finisce, come dice Paolo Bonolis e si può essere civile. Beh, non è l'amore che finisce, finisce forse l'emozione e ci sono persone che magari hanno bisogno di vivere delle emozioni, altre che invece preferiscono la carezza della sera, c'era una famosa canzone, no? Ho la voglia d'avventura. C'è chi ha più la voglia di avventura che prende il sopravvento e chi preferisce la carezza della sera. Io credo che nelle coppie dove c'è molto rispetto e dove non ci sono problemi di soldi, perché purtroppo è lì il problema, quando ci sono delle bagarre economiche, che è una cosa tra l'altro bruttissima, bruttissima, allora le cose si complicano, altrimenti secondo me se ci si è voluti bene, se hanno dei figli... Si può fare. Ecco, Stefania, ad esempio, Ambra, con Renga, dicono, può succedere che due persone separate si dicono ancora ti amo e noi lo facciamo. Certo. Bella addirittura. Molto bella questa cosa. Perché l'amore secondo me non finisce, si può trasformare e soprattutto quando si hanno poi dei figli bisogna avere anche il rispetto per questi figli, perché è vero che adesso nelle classi sono più figli di separati che di persone che stanno ancora insieme, però per i ragazzi, secondo me, a qualsiasi età, vedere i genitori sereni, che siano insieme o separati, è indispensabile. Quindi l'intelligenza sta in corso. Secondo me ci serve l'intelligenza. Io, non so, mio fratello si è separato quando i miei nipoti erano molto piccoli e adesso hanno costruito un rapporto, mio fratello con la sua ex moglie, è meraviglioso, trascorrono le vacanze insieme, stanno con i figli. Ma se pensi che un esempio meraviglioso, Demi Moore e Bruce Willis, lei si sono lasciati, lui sta attraversando un periodo di malattia, ma lei è accanto a lui. Ma se una persona l'hai amata, in qualche maniera continui ad amarla, come diceva Rosanna. Però fino a ci sono degli ex che non accettano che l'altra persona si rifaccia una vita, per esempio. Là dove c'è il tradimento, poi ci ne scano dei meccanismi. Là dove magari c'è stato un tradimento, semplicemente si è rotto un patto. Sì, certo. Premesso che per non scoppiarsi bisogna essere molto cauti nell'accoppiarsi. Bravo, Gigi! Non si può mettere insieme, sarebbe il massimo, forse impossibile, ma i sogni a volte diventano realtà, una carezza della sera con il sogno dell'avventura? Non credo!